ragazzi mi raccomando visitate atlas computer e acquistate il vostro pc da gaming ragazzi mi raccomando supportatemi come creature il codice è pietrovale bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora raga ora vi mostrerò tutti gli sponky di valarbuta da 1 a 10 ok incominciamo io seguo in compagnia di Ducremery ovviamente parte di qua ok raga incominciamo da qua c'è questa parte qua quindi i palciatori li mandavano indietro qui la sotto ci sono tutte le gas che ormai sono state confumate ci ne è rimasta anche più mezza facciamo vedere anche questa parte di qua ok raga questo è l'inizio dello sponky vi ricordate un pezzo un pezzo di qua e poi c'è questa parte di qua vabbè qua siamo già venuti qua qua quindi questa parte qua non l'ho fatto vedere ok questo è il primo vi faccio vedere qua raga giusto per orientarvi ok passiamo al secondo questo è lo sponky di amplificatore a questa la ragazza e qui arriviamo un amplificatore poi abbiamo fatto un pezzo anche qua sopra come sei andato là dentro di qua ho saltato qua si va giù riferiamo dove siamo prima e qua praticamente il tuo sponky poi c'è la parte invece destra dove ci hanno anche attaccato più di una volta sotto qui abbiamo fatto una specie di cunicolo poi che arrivavano da sopra e qui pietra fa di vedere sopra qua poi c'è la parte di qui dove nascevano e qui c'è un altro piccolo sponky di sopra sia di qua sia di qua l'ultima parte lì che passavano che andavano su di qua mi ha fatto certo questo tunnel avete capito raga questa è la parte di qua ora vediamo l'altra sponky vediamo la B questa è la B facciamo vedere il pezzo di qua prima che si va a congiungere praticamente con lo sponky e la poi c'è la parte di qua qui dove nascevano i zombie ci sono due percorsi questo percorso qui e la che non sono neanche mai arrivati e andavo a finire l'antificatore di qua l'antificatore è questo e poi c'è l'altro percorso quindi sempre di qua di qua che andava a congiungersi con l'altro e poi c'è un piccolo sponky che saliva sopra ok questo è un altro poi andiamo su andiamo a congiungerci con l'altro antificatore ok da qua questa è la C andiamo a farli vedere quello sopra che la fine non ci hanno mai attaccato forse si no una volta ci hanno attaccato di qua si una volta e poi andiamo a farli vedere quello sopra e qui ci andiamo a congiungere con l'altro sponky quello che ci hanno attaccato più di una volta questo è un'altra volta sta anche qua poi andiamo all'amplificatore quello ecco di qua andiamo sopra e qua hanno rotto vedi l'hanno rotto prima anche di qua l'hanno rotto quindi andiamo sopra l'hanno rotto l'hanno rotto qui c'è lo spot di prima il mesher ballavano si ah qui lo saltavano poi c'è il pezzettino sotto guarda questo bella finestrella per guardare un po' da aria dai un po' da aria ci va e poi c'è questo qua no questo abbiamo già fatto vedere abbiamo finito pietro no non abbiamo fatto vedere giù pure raga qui sotto c'è un'altra sponky qua aspetta che ora entro da qua ecco ok ragazzi vi abbiamo fatto vedere tutti gli sponky da Valarguta 1 a Valarguta 10 e raga ci vediamo nella prossima puntata con una serie di Montespago bella a tutti ragazzi mi raccomando iscrivetevi e lasciate un bel like bella